Ciao, ti stavo aspettando. Allora, com'è andata? Capisco. Sì. Bene, bene. Ma la giornata, come ti è sembrata? Ho capito? Già, a me è sempre piaciuto andare in campeggio all'aria aperta. Sempre divertito. Ma non so se sia lo stesso. Anche per te hai bisogno di una ticura di te. Vuoi qualcosa da bere o da mangiare? Penso che sia rimasta ancora. Va bene? Immagino sia stato stressante per te tutto questo. Del resto, una persona speciale come te merita solo il meglio. E non lo dico. Non lo dico tanto per dire. Ma è... Per me lo penso davvero. Sei sempre al mio fianco, nonostante tutto. E io al tuo. E voglio dirti che ci sarà sempre, nonostante tutto. Io sono convinto che tu valga molto come persona. E quindi... E quindi... E quindi... Vendremo sempre io e te contro tutti e tutto. Sì, esatto. Sì, esatto. Sì, esatto. Sì, esatto. Sì, esatto. Perché noi siamo così. Ed è giusto. A volte, lo so, la vita ci offre delle possibilità, ma anche delle difficoltà illimitate per la quale non possiamo fare altrimenti. Ti piacciono i marshmallow? Sì, vedo. A me non ho tanto. Per chi... Per chi... Chi si... Attaccano... Al palato. Però... So che a te... E nella maggior parte dei casi... Piaggiano. Già... Già... E' stato dura... Svegliarsi... Stamattina... Presto... Per venire qui... E stare... In una notte fonda. Già... Sai... A volte... Penso... Che tu... Mi sappia... Leggere... Dentro... Molte volte... Molte volte... Capita... Che... Pensiamo sempre... La stessa cosa... Mi piace... E' una cosa... Che... Mi piace... Molto... Stanotte... Dormiremo bene... Lasceranno acceso il fuoco... E lo... Guarderemo... Attorno... Già... Vedi... E' esattamente... Quello che stavo pensando... Quello che stavo pensando... Sì... Sei così divertente... Se fossero ancora tutti i svegli... Apprezzerebbero... Queste battute... Già... Sei una persona... Così... Speciale... E spontanea... A volte... Mi stupisco... Di quanto tu... Possa essere... Dolce... E speciale... Davvero... Ma raccontami... Alla fine... Com'è andata... Con quella... Tua amica... Mi raccontavi... L'altra settimana... Non deve averla presa molto bene... E adesso... Come siete rimaste d'accordo? Ho capito... Sì... E beh... Chiaro... Beh... Beh... Mi sembra che... Comunque... Siete... Rimasti in buoni rapporti... Non mi sembra che l'abbia presa... Così male... Mi ricordo... Mi ricordo... Che... Eravate... Molto legati... E quindi... Sì... Sì... Non... Arrivi... Qualche lupo... A svegliare... Sì... Hai ragione... Beh... Ma... In realtà... I coyoti... Sono... Poco diffusi... In queste zone... In queste zone... Sì... Già... Sì... Sì... Speriamo anche... Non avere freddo... Senti il fuoco? Come arde. Mi sa che tra un po' toccherà a Marco. Sì, sì, è vero, è vero che toccava a lui, sì, e dopo a lei, sì, sì. Me lo ricordo, l'ordine l'avevamo scritto poco prima di arrivare qui, qui. Sì, ancora? Sì, lo so che mi toccherà farlo anche a me, non ti preoccupare. Davvero? Ma io pensavo che... ma come? Davvero? L'ha fatto lui? Ma dai! Eh, no, non stava con Martino. No. Io avevo capito così. Probabilmente mi sbagliavo. Sì. Beh, ma voi eravate comunque amici? Sì. Guarda. Sì. Tu mi spavargo. Ti è felice. Guarda qui. Aspetta il tuo riso. Devi prenderti cura del tuo riso. Non puoi andare in giro così. Guarda anche qui. Come fai ad andare in giro così? Ti senti? È perché in effetti c'è tanto fumo qui che in effetti non si riesce a controllare e quindi fa questo effetto. Guarda, ti evito anche nei capelli. No. No. Non c'è ancora, hai. ma guardate, si, ah, lamentati, lamentati anche, mi raccomando e hai tantissima, tantissima, mamma mia come vai? non è colpa mia, sei tu che ce l'hai, non io, davvero giochi levo a me la, ti prego, faccio io eh va bene, allora pensi di dormire bene stasera, stanotte? sì, anch'io spero che non ci saranno rumori, rumori sconsiderati, inconsueti però conoscendo tutti, lo sai, è molto probabile che accada beh dai, speriamo che tutti dormano bene mi conosci noi due, è speciale, non te lo dimenticherò mai, davvero buonanotte